...caccia, vero? Esatto, Montalbini è stato bravissimo, ha mantenuto la promessa, lui ovviamente come i suoi 14 compagni, questo è esattamente il momento in cui i protagonisti dell'operazione Città Sotterranea stanno per entrare nella grotta del fiume. Quanto ha impiegato? Circa 17 minuti, credo, un quarto d'ora più o meno. Ecco, adesso che succede lì? Questo che è il posto dove alloggeranno? Esatto, questo è uno dei quattro luoghi dove alloggeranno, il campo base si chiama appunto Città Sotterranea, formato da quattro piattaforme, quella che hai appena visto è il reparto per così dire giorno, c'è poi un reparto notte, un magazzino e il reparto per così dire scientifico dove saranno effettuati i test medici. Cioè quindi un appartamento di fare? Sì, un vero e proprio appartamento, queste riprese, ecco, vale la pena di sottolinearlo, sono girate per così dire a spalla, come sai da Gabriele Marinelli che è l'operatore della RAI che seguirà appunto, come detto all'inizio, l'operazione dal di dentro. Questo piccolo villaggio si estende per circa 160 metri quadrati, composto appunto, come ti dicevo, da quattro piattaforme, la temperatura è intorno ai 13-14 gradi, costante, mentre il vero nemico resta l'umidità che qui nelle grotte è intorno al 98% addirittura.